Grazie a tutti Acragas, città di Messina, tornano a confrontarsi due importanti piazze calcistiche con obiettivi diversi che mette in corsa De Rossi, palla in mezzo, un tentativo ancora De Rossi, ha l'opportunità per il cross sul secondo palo ma la palla ha superato la traversa, gioca palla il numero 7, mette in mezzo a cercare Pellegrino ancora dentro la rigore, ancora un tentativo con Arena palla in mezzo a cercare Saraniti che aggancia un pallone c'è un tocco con un braccio, si lamenta Saraniti Saraniti ha l'opportunità di entrare in aria, ancora Saraniti palla in mezzo, non ci arriva Arena, Arena, la palla di ritorno su Parisi pallone in mezzo, colpo di testa di... ancora un tentativo il colpo di testa di Pellegrino ha sbagliato Bonaffini Caci Pellegrino in mezzo all'interno del rigore poi c'è un tocco e la rete Arena 1-0 per l'Akragas 22 minuti di gara si sblocca la partita Arena sotto la curva c'è stato un giocatore del Messina che ha sbagliato il tempo di battuta Arena da pochi passi questa volta non perdona l'Akragas passa un vantaggio palla in mezzo rigore rigore la spinta su Bonaffini è stato Nastasi la corsa piccoli passi Arena il tiro e la parata di Fazzino calcio d'angolo sbaglia il raddoppio Arena numero 7 ancora un tentativo l'azione poi sfuma nonostante la battuta di Bonaffini gol annullato De Rossi con le mani cerca il movimento e sembrate regolare attenzione c'è Manfrenaria al tiro sbilenco di Nastasi poi il tiro la parata sul tiro di Bonaffini palla in mezzo colpo di testa sulla linea ancora un tentativo con l'Akragas che mantiene il possesso e la parata sul tiro di Assenzio palla in mezzo alza la testa palla in mezzo la girata di Assenzio poi è Costa che può trovare lo spazio proprio in questo istante fischia l'arbitro l'Akragas c'entra la settima vittoria consecutiva 1-0 tanta fatica ma tre punti incamerati c'è Oh!